Volotea festeggia il milionesimo passeggero a Palermo. Si tratta di Giovanna Spera, studentessa di 28 anni, che ha vinto la possibilità di volare gratuitamente per un anno intero in tutto il network di destinazioni raggiungibili dal capoluogo siciliano. In occasione della premiazione, la compagnia aerea Locosta ha annunciato il suo regalo natalizio alla città, lo speciale concerto ad ingresso gratuito che si svolgerà il 19 dicembre. A salire sul palcoscenico del Teatro Massimo è il pastor Patrick George and the United Raise Up Choir. Per partecipare al concerto basta collegarsi al sito di Volotea, lasciare i propri dati e sperare di essere sorteggiati.